Inauguriamo oggi il Capanone 18, nell'ambito dell'area delle ex officine reggiane, un importante e fondamentale passo della nascita del Parco Innovazione, una grande idea voluta dalla città dieci anni fa, realizzata gradualmente, giorno per giorno, che si affianca ora al Tecnopolo e che presto si affiancherà a nuove ulteriori importanti realizzazioni di altri Capanoni che già sono finanziati, progettati e assegnati. Così come la settimana scorsa abbiamo riaperto i chiostri di San Pietro, oggi riapriamo l'area delle reggiane, la settimana scorsa abbiamo investito su cultura, storia e sul valore anche monumentale di un luogo importante della città, questa settimana riapriamo un altro importante luogo della città attraverso l'innovazione, la ricerca, il lavoro, in entrambi i casi attraverso un'idea di città che guarda il futuro, che ci guarda con spirito di innovazione. Grazie.